E' stata una delle gare più belle che abbia mai fatto per questa rimonta Al primo giro Cisco mi è entrato, non l'ho visto e siamo usciti tutti e due Alla fine non mi ricordo, da settima, ottava posizione sono riuscito a rimontare fino alla prima posizione Molto buono anche perché Cisco non è riuscito a recuperare come me E Shurek che è l'altro, il mio rivale in campionato, gli è caduto il musetto Quindi va benissimo